La vista è davvero incantevole. In comune di Parzanica, proprio sopra Tavernola, abbiamo quasi terminato il secondo lotto di villette e appartamenti con stupenda vista sul lago di Iseo e stiamo iniziando i lavori del terzo e quarto lotto rispettivamente di 17 e 30 unità abitative che saranno ultimate prossimamente. Visto il grande successo fin qui ottenuto, grazie alla qualità dei materiali, alle capacità della manodopera e non ultimo alla competitività dei prezzi proposti, vi invitiamo a curiosare anche attraverso una visita in cantiere per valutare le nostre proposte che di sicuro vi stupiranno. Per info telefono 347-333-9667. Amici sportivi e appassionati di calcio a 5, ben ritrovati. Ultimo appuntamento di questo 2013 per quanto riguarda il campionato del CSI, 5 giocatori, calcio a 5 giocatori, siamo nel gruppo B, girone B come del resto la grafica ci suggerisce e siamo come ormai consuetudine a Val Bondione dove ci apprestiamo a seguire questa undicesima e ultima partita del girone di andata del campionato 2013-2014. Con la maglia nera la vedete la formazione del Sandrinelli, trasporti Sandrinelli di Comunuovo con la maglia bianca dalla parte opposta alla formazione del Edilsole. Vado subito a darvi, prima di darvi qualche cenno per quanto riguarda la classifica, vado a darvi la formazione con il Sandrinelli che schiera con il numero 1 Marinoni con il 2 Paolo Fornoni e questo è un po' un'omonimia con il Paolo Fornoni delle Edilsole, Paolo Fornoni con il numero 2, trasporti Sandrinelli e Paolo Fornoni con il numero 11 delle Edilsole, il nome e cognome uguali. Col 3 Francesco Raccagni, il 4 Fabio Ghislotti, il 5 Maurizio Locatelli, il 6 Francesco Cuceli. Con il 9 Marco Testa con l'11 Marco Martinelli con il 12 Alessandro Caglioni, l'allenatore Roberto Sandrinelli. Mentre per quanto riguarda la formazione della squadra di Edilsole, ripeto, in maglia bianca, in questo incontro viene schierata dal mister allenatore Fabiano Trivella con il numero 1 Andrea Conti, il 4 Mauro Morandi, il 6 Fabio Semperboni, Omar Donati con il 7, Roberto Conti con l'8, Manuel Simoncelli con il 9, come abbiamo già detto Paolo Fornoni con l'11, con il 13 Stefano Simoncelli, il 22 Eric Donati. L'arbitro è il signor Perico di Albino, attenzione entriamo in cronaca con Omar Donati che tocca dietro, non riesce però Conti, Roberto Conti a trovare soluzione con Semperboni sul pallone, cerca verso Paolo Fornoni, perde il teckel, vediamo se magari sono i due, no, è l'altro numero 11, Martinelli che glielo ruba, poi va a smistare verso il proprio compagno. Ancora questo colpo di tacco, la bella difesa dello stesso Fornoni, Paolo Fornoni che evita l'inserimento del giocatore, mi pare sia Cuceli con il numero 4, Ghislotti esattamente, battuto la rimessa laterale, Omar Donati al tocco verso Roberto Conti, cerca il dribbling Conti, la cosa non gli riesce, la palla che termina in fallo laterale. Per la rimessa in gioco, già effettuata senza esito e dunque si riparte da una rimessa da parte del portiere Marinoni, il tocco Martinelli, Martinelli dietro al proprio compagno Ghislotti, attenzione perde il pallone Roberto Conti, cerca il dribbling, non lo trova, lo Maraccagni subisce anche fallo il numero 3, allora chiama Ghislotti ad avanzare, va al cross, l'intervento di Fabio Semperboni in buona chiusura in anticipo e ad evitare in intervento nei confronti di Martinelli la deviazione del numero 11. Calcio d'angolo, lo va a battere Francesco Raccagni, ancora lontana e riparte il contropiede dalla formazione dell'Alta Valle Seriana, ma non riesce Roberto Conti, lo vedete qui a controllare, rimessa ancora per la Sandrinelli, Raccagni, l'esterno destro, sbaglia Omar Donati, il tocco, pallone che però non arriva, nessun giocatore in maglia bianca, allora riparte ancora Sandrinelli. Al termine di questa azione vedrò di darvi un po' ragguagli per quanto riguarda la classifica, Martinelli, Martinelli sul pallone, lo scambia con il compagno, va alla conclusione, batti, ribatti, poi esce Antonio, Andrea Conti, chiedo scusa, riesce a ribattere e dunque poi sul conseguente tiro in porta, pallone alto sopra la trasversale, dobbiamo dire che Andrea Conti ancora una volta ci ha messo lo zampino con i piedi, lui che sta diventando uno specialista, perde il pallone, Paolo Fornoni glielo ruba, mi pare che sia, sì, il numero 7, Cuccelli, Cuccelli che scambia con un compagno ancora il passaggio, insomma questa Sandrinelli che dall'alto anche di una classifica che dobbiamo dire è tutto sommato più che ottima, è lontana, anzi sono, è lontana soltanto un punto dall'Edilsole e ve ne parlerò fra poco perché qui l'azione mi pare che si stia sviluppando bene con la conclusione di Paolo Fornoni per l'Edilsole, palla in fallo laterale, ecco dirò solo Fornoni, Paolo Fornoni perché c'è, attenzione, il gol, siamo al quarto minuto, il gol di Paolo Fornoni, nemmeno a dirlo, stavo dicendo, non c'è in campo l'altro Paolo Fornoni, il numero 2 della Sandrinelli e il nostro, tra virgolette, Paolo Fornoni è andato a realizzare il gol dell'1-0, siamo al quarto minuto di gioco dunque subito o perlomeno quasi subito però dobbiamo dire che la Sandrinelli sta attaccando e finora l'ha fatto con una buona intensità, lo dobbiamo dire perché le migliori azioni da rete o perlomeno sottoporta le ha avute proprio la formazione di Comunuovo. Vi dicevo della classifica prima di questa partita c'è in testa il San Leone, poi l'arredamenti Cortinovis, lì vicino l'Atletico Micatanto e appunto la formazione dell'Edilsole che sono appaiate in classifica e che andranno per certi aspetti a combattere insomma per anzi diciamo che la formazione dell'Atletico Micatanto è avanti due punti in classifica rispetto all'Edilsole. Seguiamo questa azione poi vi parlerò nel dettaglio anche della classifica prima di questo turno perché è importante, è una classifica che sembra abbastanza corta per le prime squadre. Conclusione, una botta di collo pieno e poi la conclusione, la botta di collo pieno da parte di Martinelli. Poi è arrivato un giocatore non ha visto se era Cuceli, da dietro ha calciato quasi a botta sicura ma non ha centrato lo specchio. Riparte la formazione in maglia bianca, perdono però il pallone, ancora Martinelli scambia sulla sinistra, c'è un proprio compagno, dovrebbe essere proprio Cuceli, viene fermato però in fallo laterale, Martinelli alla rimessa, scambia con il portiere Marinoni, Marinoni che avanza, abbandona l'area di porta, poi ci ripensa, torna indietro, scambia ancora con Cuceli, il tocco verso Martinelli, anzi era Raccagni, adesso Martinelli perde il tocco, riconquista del pallone, Paolo Fornoni che cerca di mettere ordine, fa intervenire Andrea Conti, Fornoni verso Conti che non ha ancora brillato per il momento Roberto Conti, riparte però velocissima l'azione della formazione, c'è il gol, gol dell'1-1, qui non poteva fare assolutamente nulla, è arrivato Francesco Raccagni tutto solo, ha fatto partire un tiro veramente a mezza altezza dove Andrea Conti non c'è arrivato, 1-1, ritorna in parità, vi dicevo che questa è una formazione tosta, è una formazione della quale bisogna stare assolutamente attenti perché ha nel proprio arco davvero diverse, diverse frecce, frecce importanti. 1-1 dunque il risultato con questa formazione che va ancora all'attacco, colpisce il palo, avete visto, è ancora l'intervento questa volta credo ancora deviato sul palo da parte di Andrea Conti e poi ancora qui una grande parata. Tre conclusioni quasi consecutive a dimostrazione della pericolosità dei ragazzi allenati da Roberto Sandrinelli che adesso vanno alla rimessa. Nella tre quarti l'arbitro Perico davvero bravo e incommiabile anche in questa serata perché dobbiamo dire che questi signori non correranno più come dei giovanotti ma sicuramente sono davvero da ringraziare per questo loro attaccamento, questa voglia, questa passione per questa attività, chiamiamolo comunque sport perché alla fine poi è uno sport. Questo signore che ha detto che ha 50 anni, che arbitra, carissimo amico, carissima persona, è davvero bravo proprio per le sue capacità, per carità e poi anche per questa voglia insomma di essere comunque presente. Intanto ritorniamo al nostro commento, ancora si presentano e c'è altra situazione di pericolo con Marco Martinelli che va a colpire la base del palo, pallone che poi va a terminare fra le braccia del portiere Andrea Conti. Un po' di sfortuna, non c'è nulla da dire per la formazione di Comunuovo che conquista il pallone ridosso dalla propria area di rigore, riparte e poi ritorna indietro con questo retropassaggio ancora il pallone in profondità per Cuceli, mi perdonerà se magari sbaglio la pronuncia, non so se Cuceli o Cuceli e poi la conclusione invece dall'altra parte con la palla che sfila a fondo campo vicino comunque al palo di destra per noi che guardiamo. Rimessa in gioco ancora in profondità verso Paolo Fornoni, conclusione, il portiere Marinoni va a deviare, l'arbitro dice no, non è stata deviata e terminata direttamente a fondo campo e allora si riparte con questa rimessa, subito va a chiudere lo spazio Omar Donati, pallone che termina in fallo laterale e la rimessa ancora a favore della formazione in maglia completamente scura. Con questo pallone giocato da Ghislotti in avanti ancora verso Martinelli, no Cuceli e il suo tentativo, troppo lungo il pallone filtrante, poi qui arriva Omar Donati, cerca di dialogare con Roberto Conti, palla in fallo laterale, Paolo Fornoni ancora verso Omar Donati, da questi a Semperboni, Fabio Semperboni, Conti Conti al tentativo di 1-2, deve giocare dietro Fornoni, Semperboni ancora verso Roberto Conti vi ricordo e c'è la conclusione e questa volta ci mette quasi diciamo così di scatto quasi improvvisamente la mano e il portiere Marinoni riesce a deviare, ma siamo già passati dall'altra parte, del resto non c'è bisogno che ve lo dica, il calcio a 5 vive proprio di queste cose, palloni che vanno da una parte e dall'altra in maniera in velocità impressionante tant'è che è difficile proprio il commento, proprio per questo, soprattutto come nel mio caso è fatto dallo studio e non in diretta. Dobbiamo dire grazie a Paolo Frigerio per le sue immagini, io non ero presente a questa serata per altri impegni e allora attenzione intanto Paolo Fornoni tenta la conclusione, questa volta riesce piuttosto sbilenca, un tiro al volo di collo pieno, dall'altra parte però si presenta con un tiro sull'esterno della rete, mi pare l'altro Paolo Fornoni, mi pare sia entrato il numero 2, Paolo Fornoni se non ho visto male e dunque i due Paolo Fornoni in campo, almeno così mi è passato, sì il numero 2 esatto, allora Paolo Fornoni con la maglia scura, con il numero 2 che adesso va alla conclusione, Paolo Fornoni con la maglia bianca, con il numero 11 che gioca nelle figlie del Valbondione, del mio amico presidente Sergio Donati. Intanto l'arbitro vede un fallo commesso da Roberto Conti, si riparte col calcio di punizione, già abbattuto, viene avanti Ghislotti, cerca lo scambio con Cuceli, il pallone arriva poi allo stesso Ghislotti che non riesce a dare profondità e allora Fornoni che chiede l'1-2 con questa volta la conclusione mi pare sulla destra da parte, non so se era Fornoni, era Omar Donati che ha giocato verso Roberto Conti e qui ancora verso Paolo Fornoni, parte in velocità, attenzione, con il doppio passo Raccagni, non trova lo spazio per la conclusione, per la buona chiusura del portiere Conti, resta anche leggermente colpito Raccagni. Calcio d'angolo dice il direttore di gara, però dice attendiamo un attimo per sincerarsi sulle condizioni del numero 3, tanto calcio d'angolo battuto, Fornoni del Comunuovo, del Sandrinelli, ho ancora il pallone, io dico attenzione perché quando dico Comunuovo, io non so esattamente se questa squadra, dico Comunuovo perché so che gioca presso il campo di gioco o la palestra di Comunuovo, ecco ma non so se la squadra sia di Comunuovo o meno o se lo sponsor Trasporti Sandrinelli sia di quella località, pertanto io chiedo scusa a chi magari mi segue sul nostro sito e che si sta chiedendo ma che cosa dice questo che Comunuovo non c'entra, io so che giocano lì e dico che è la squadra di Comunuovo anche se poi magari la sede della squadra è da un altro posto, Fornoni, conclusione ribattuta questa volta da parte di Matteo Marinoni, bravo, si è seduto e poi è riuscito a deviare con i piedi, è rimessa in gioco Omar Donati, scambia proprio con Fornoni del sole, tocco dietro verso Andrea Conti, da questi a Roberto Conti, il tocco Omar Donati, ancora Paolo Fornoni, il tocco verso Omar Donati che si era sganciato, il pallone troppo profondo termina in fallo laterale, c'è un cambio, anzi sì un cambio, esce il numero 7 Francesco Cuceli, entra il numero 9 Marco Testa nelle file del Sandrinelli, Sandrinelli dunque che è in campo, ah in campo anche Maurizio Locatelli con il numero 5 come potete vedere, allora riparte la formazione maglia nera dopo aver conquistato questo pallone, Fornoni che scambia, cerca poi lungo linea il passaggio, l'ultimo entrato, vale a dire Marco Testa, pallone non raggiunto, allora adesso è la formazione in maglia bianca che tenta questa sortita, nessun esito, pallone che si perde fra le braccia del portiere Marinoni che ha già distribuito verso i suoi compagni e allora riparte ancora la formazione in maglia scura, con questo pallone esce Roberto Andrea Conti riesce a impossessarsene, va al tentativo dell'1-2, Roberto Conti non riesce a dare profondità al passaggio, palla in out, la rimessa in gioco dello stesso numero 8, scambia con Omar Donati, delle di sole naturalmente, il pallone in profondità, palla che termina però a fondo campo senza esito ed è addirittura l'arbitro, il signor Perico che controlla l'orologio e dà il pallone per la rimessa in gioco al portiere Marinoni, in profondità senza nessun esito adesso le due squadre, anzi diciamo così, i dieci giocatori tirano un po' il fiato perché finora il ritmo è stato anche abbastanza serrato. Riparte Semperboni verso Paolo Fornoni delle di sole, vedete in possesso il pallone e poi va alla conclusione quindicesimo del primo tempo, grande gol di Paolo Fornoni, davvero un gran bel gol ha lasciato estere fatto il portiere Matteo Marinoni che è andato a prendersela non so con chi, credo con i suoi compagni perché Paolo Fornoni ha fatto tutto da solo, ha costruito e appena oltre il cerchio di centro campo è andato a calciare un destro di collo pieno che non ha lasciato scampo al portiere avversario che l'ha visto davvero all'improvviso, la conclusione tenta la sortita mentre qui c'è un fallo commesso da Marco Testa nei confronti di Fabio Semperboni, l'arbitro fa ripetere la ripresa del gioco già effettuata per la seconda volta, Andrea Conti parte il suo lancio centrale verso Omar Donati da questi Semperboni, va alla conclusione Fabio Semperboni, pallone colpito male che termina abbondantemente a fondo campo, la rimessa con le mani, il tocco è ancora un retropassaggio ed è ancora Andrea Conti che va a calciare, è ancora però fuori misura. Se ne sono andati 16 minuti e mezzo di questo primo tempo e vedete che è stato chiesto un minuto di sospensione credo da parte dei ragazzi del Trasporti Sandrinelli, vi ricordo che questo minuto di sospensione può essere chiesto da una delle due squadre, naturalmente da tutte e due le squadre, un minuto per ogni tempo proprio per rimettere in ordine idee, e rifiatare, cercare poi di ripartire e soprattutto far tirare il fiato, perlomeno se non trovare qualche tattica per la squadra che magari in quel momento è sotto e ha bisogno di nuove idee per poter risalire, questo è l'intento. Vi ricordo peraltro che si gioca sui 20 minuti di gioco per ogni tempo, dunque mancano 3 minuti a questo punto al termine del primo parziale con la formazione dell'Edil Soli e Valbondione in vantaggio per due reti a uno. C'è un fallo adesso, va a batterlo, la formazione del Sandrinelli con questo pallone, giocato in avanti, cerca di farsi vedere, testa però non riesce a controllare la sfera che termina, vediamo con Manuel Simoncelli che dice prego se lo vuoi raccogliere qualche battivecco, del resto Manuel Simoncelli che nel frattempo è entrato, lo dobbiamo dire, non è uno che va tanto per il sottile, insomma ancora piccole discussioni, vedete l'arbitro che va a sincerarsi e dice calcio d'angolo, perciò sistema bene il pallone, sistemato, effettuato, c'è un rimpallo, può ripartire Paolo Fornoni dell'Edil Sole, il bomber della squadra in maglia bianca, viene fermato però da Ghislotti, Fabio Ghislotti bravo a chiuderlo in fallo laterale per la rimessa in gioco, l'arbitro va a sancire le distanze, Simoncelli, Manuel Simoncelli verso Eric Donati, è entrato anche lui a sostituire Roberto Conti, mentre qui ancora Paolo Fornoni, vediamo non c'è spazio per la conclusione e c'è il rigore, c'è il rigore dice l'arbitro, c'è il rigore perché è stato, ecco l'arbitro va a dire è successo proprio qui, nessuna discussione, tutti o perlomeno discussioni velate e l'arbitro che è molto, diciamo così, sostiene il suo diritto, Paolo Fornoni, la finta e c'è al diciottesimo minuto il gol del 3 a 1 a favore della formazione di casa che a due minuti dal termine va a portare a più due il proprio vantaggio, una Sandrinelli dobbiamo dire in questo primo tempo piuttosto sfortunata, tre pali li ho visti e certamente ha avuto anche altre occasioni, ha trovato sulla sua strada un bravo portiere come Andrea Conti e dobbiamo dire anche un po' di sfortuna naturalmente che può aver pesato su questo risultato, invece tanto è bravo Manuel Simoncelli e invece dicevo è stata brava la formazione di casa a capitalizzare insomma le occasioni che gli sono capitate, poi è arrivato questo gol e intanto è entrato con il numero due Eric Donati, ve l'ho già segnalato, eccolo qui proprio sotto gli occhi della nostra telecamera, intanto c'è questo suggerimento, Paolo Fornoni che come al solito lui tenta ogni soluzione, è un Paolo Fornoni che ritroviamo rispetto alle prime partite francamente molto più in palla, ecco molto più corre avanti, indietro probabilmente man mano passano le partite trova un po' più di condizione che è sempre quella mancanza di preparazione o se vogliamo anche di allenamenti che purtroppo non gli permette sempre di essere in palla nelle prime partite, poi man mano si gioca, trova appunto il fiato, trova la condizione e naturalmente poi la qualità che questa non gli ha mai fatto difetto. Intanto attenzione perché siamo, anzi abbiamo superato da pochissimi secondi il ventesimo minuto, dunque arriverà fra poco il fischio di chiusura della prima frazione di gioco, vi ricordo siamo sul 3 a 1 a favore della formazione del Sole che deve se non altro cercare questi tre punti per rimanere nelle parti alte della classifica. Vediamo l'arbitro, il signor Perico lascia ancora giocare ma credo che ormai andrà a fischiare, vediamo Omar Donati andrà a fischiare fra poco. Il termine di questo primo tempo arriva proprio adesso, si chiude qui, 3 a 1 tutti a riposo con questo bel vantaggio per la formazione delle di il Sole. E si rientra dunque tutto pronto per dare il via a questi secondi 20 minuti di gioco con il risultato di doppio vantaggio 3 a 1 a favore della formazione delle di il Sole contro la squadra del Sandrinelli. A questo proposito vorrei ricordarvi con esattezza la classifica anche perché prima l'ho fatto ma in modo inesatto e imparziale, vi ricordo che le di il Sole è schierata con la completa tenuta bianca, ha due divisi, le di il Sole di solito gioca con quella nera però visto che erano gli ospiti a vestire quella nera in questa partita, l'ultima del campionato del CSI come del resto vedete anche dalla grafica che scorre in sovraimpressione allora hanno dovuto indossare per doveri di ospitalità e questo è normale anche la divisa bianca e dicevo che nella prima parte del commento vi ho dato una classifica che non era precisa a fronte delle dieci partite finora disputate poi alla fine dell'incontro vi darò la classifica aggiornata al termine appunto di questo girone di andata. Conduce il San Leone con 20 punti, al secondo posto c'è l'arredamenti Cortinovis con 19 quindi a 18 punti l'atletica mica tanto la Frigeni Moto, a quota 16 c'è l'edil sole appunto, a quota 15 ci sono ben tre squadre, proprio la formazione del Sandrinelli che vedete, il collettivo Confusione e i santi bevitori, a quota 13 l'Atletico Ranger, a quota 10 la Bergamo United, la Virtus 92 su Isio a 7 punti e il Real Conca ne ha 6. Questa è la classifica? È chiaro? Attenzione intanto c'è il gol, c'è il gol dopo un minuto e mezzo di Simoncelli, dobbiamo dire bravo Manuel Simoncelli a trovare il pertugio giusto fra il palo e l'opposizione del portiere Marinoni che non mi è parso proprio brillantissimo in questo frangente, ha visto arrivare il pallone un po' troppo tardi e quando si è chinato il pallone l'aveva superato, ecco forse magari l'ha giudicato anche fuori o ha giudicato di essere ben appostato sul palo e spingere col corpo e invece il pallone si è infilato proprio in quell'angolino che è appunto dove non ti aspetti, dove probabilmente anche il portiere Matteo Marinoni non si aspettava. Dobbiamo dire che la squadra, e questo in tutta franchezza da quello che ho potuto vedere, ripeto io sto commentando da studio la partita, non ero presente a Valbondione, dobbiamo dire che la squadra Sandrinelli sul risultato di 1 a 1 ha avuto almeno 4-5 occasioni per passare in vantaggio e due o tre pali sono stati colti, due o tre belle parate da parte come al solito ormai come ci ha abituato di Andrea Conti, hanno negato il gol del vantaggio ai giocatori allenati da Roberto Sandrinelli e questo è andato poi probabilmente a inficiare anche sul morale dei giocatori in campo della squadra avversaria perché poi praticamente sono passati sul 2-1 al quindicesimo dopo che la squadra al settimo aveva raggiunto appunto l'uno pari con la squadra avversaria con Francesco Raccagni e dopo otto minuti Paolo Fornoni ha trovato il suo secondo gol della serata, eravamo al quindicesimo e poi al diciottesimo il gol del 3-1 sempre di Paolo Fornoni che così ha già realizzato una tripletta. Io purtroppo non ho dati che vi possono dire, confermare quanti gol ha già realizzato il bomber della squadra Paolo Fornoni ma sono già tanti e poi come del resto avete visto nelle nostre immagini, immagini di Paolo Frigerio, l'Edilsole è riuscito a passare anche sul 4-1 dopo un minuto e mezzo dall'inizio del secondo tempo e questo naturalmente porta la squadra ad assumere la squadra di Valbondione quel vantaggio che potrebbe portarla definitivamente a una vittoria e sarebbe per quanto riguarda questo campionato sarebbe la sesta. Finora diciamo che il campionato è stato un pochettino particolare da parte della squadra dell'Edilsole perché se è pur vero e questo lo dobbiamo precisare che ha vinto cinque partite finora perché 5-9-10 questa è l'undicesima giustamente ne ha perse quattro e qualche d'una di queste quattro partite la squadra poteva anche giostrarle in maniera diversa perché secondo me qualche punticino qua e là la formazione di Valbondione l'ha lasciato. Per esempio la prima è vero che era la prima del campionato però ha perso in casa proprio qui sulla palestra del centro sportivo del palazzetto dello sport di Valbondione ha perso in casa per 3-2 contro il San Leone che oggi capeggia la classifica e questi possono essere tre punti pesanti insomma per quello che è l'economia di una classifica che comunque è molto corta per quanto riguarda almeno 6 o 7 o forse anche 8 se vogliamo 5 partite 5 5 squadre se vogliamo del campionato però se lo vogliamo allungare fino a 7 8 squadre insomma visto che ci sono ci sono cinque punti e ci sono prima di questo turno di campionato ben 3 6 8 squadre racchiuse in 5 punti insomma che è tutto dire. Poi ancora per quanto riguarda la formazione dell'Edilsole lo dobbiamo dire dopo aver vinto la seconda contro i penultimi della classifica quelli di Suisio fuori casa hanno ricevuto in casa la Bergamo United squadra che è in fondo alla classifica finora ha vinto soltanto tre partite e una di queste tre è la terza ultima in classifica con 10 punti e una di queste tre partite è andata a vincere addirittura proprio a Valbondione contro l'Edilsole per 5 a 2 risultato che soprattutto vittoria che ha lasciato tanto amaro in bocca ai ragazzi di Fabiano Trivella perché pensava diceva insomma abbiamo perso con quelli del San Leone che sono forti del Virtus sino del San Leone perché sono forti quelli vicinati però poi abbiamo vinto la seconda la terza in casa insomma c'era una sorta di maledizione del terreno amico e poi invece è stato sfatato abbastanza presto poi ha vinto 3 a 0 contro l'Atletico Ranger squadra che ha tre vici punti in classifica prima di questo incontro poi in casa è arrivato finalmente una rotonda vittoria 6 a 2 contro gli arredamenti Cortinovis e oggi gli arredamenti Cortinovis sono avanti tre punti alla formazione di Valbondione hanno 19 punti prima di questo incontro e poi alla sesta di campionato la formazione dell'Edilsole è incappata in un'altra sconfitta la più sonora del girone di andata ha perso 8 a 2 contro Frigeni Moto Frigeni Moto che oggi ha due punti in classifica di più rispetto alla formazione di Valbondione poi ancora la settima di campionato l'Edilsole ha pareggiato contro i Santi Bevitori anche questo un punticino sicuramente buttato un po' via perché è un 5 a 5 che sicuramente ha gridato vendetta per poi andare a vincere contro il collettivo Confusione fuori casa per 5 a 4 e poi siamo alla storia delle ultime due partite la vittoria 6 a 4 contro il Real Conca anche qui con qualche attimo e qualche brivido perché il Real Conca è ultimo in classifica con 6 punti soltanto all'attivo non ha ancora vinto, no ne ha vinte due, non ha ancora pareggiato la formazione del Real Conca e questo lascia pensare insomma, lasciava pensare prima di quella partita ed era la nona del girone di andata che tutto poteva essere facile e invece di facile non c'è stato assolutamente nulla si è risolto tutto alla fine della partita, intanto c'è stato ancora un gol ed è ancora Paolo Fornoni esattamente all'ottavo minuto di gioco di questo secondo tempo, ancora con uno dei suoi gol come gli arriva il pallone, lui calcia indipendentemente col destro o col sinistro anche in questa occasione è successo, intanto esce Manuel Simoncelli e rientra Fabio Semperboni nelle file della formazione che adesso conduce per 5 a 1 e il che lascia presupporre che abbiano un po' ammainato, come possiamo dire, la bandiera quelli della formazione del Trasporti Sandrinelli però intanto è entrato, vedete anche Stefano Simoncelli sul terreno di gioco è entrato anche il numero 4, un acquisto delle ultime giornate questo Mauro Morandi che è veramente bravino che purtroppo non può essere presente a tutte le partite ma quando c'è è un punto di riferimento per la squadra di Val Bondione intanto c'è questa bella conclusione da lontano sventata ancora in calcio d'angolo dal portiere Andreo Conti stavo finendo la disamina del girone di andata con la decima giornata quando la formazione del Lady Il Sole è andata a giocare contro l'atletica mica tanto è vero che questi sono ragazzi bravi perché la partita ve l'abbiamo proposta due settimane fa hanno vinto 7 a 6 addirittura qui si pensava che potesse a due minuti dalla fine un minuto anzi si potesse vincere ancora una partita la squadra del Lady Il Sole invece i ragazzi che giocano anche loro sul campo di Comunuovo dove gioca questa squadra del Sandrinelli in pratica hanno ribaltato il risultato e se lo sono giudicato la decima partita con il risultato di 7 a 6 e poi adesso è questa storia di questa sera stiamo parlando di questo per il momento 5 a 1 che sembra mettere al sicuro e qui un vedete in preca più che altro con se stesso Fabio Semperboni per questa occasione si era liberato bene per la conclusione pallone terminato alto sopra la trasversale della porta difesa da Matteo Marinoni e adesso rientriamo in cronaca con questa conclusione di Ghislotti ben neutralizzata ancora dal portiere dal portiere dobbiamo dire che Andrea Conti è stata una splendida sorpresa ancora a lui a deviare proprio in questo campionato intanto viene avanti Morandi e poi il pallone difeso da Manuel Simoncelli dicevo è stata veramente una bella sorpresa perché ha parato in certe occasioni ha parato quasi l'inverosimile e infatti tante tante persone visto che noi abbiamo parlato insomma durante queste partite hanno detto ma ci hanno descritto questo ragazzo come un bel portiere ma non pensavamo fosse così bravo dobbiamo dire che effettivamente è stato un bel acquisto da parte di Redilson insomma Andrea Conti che adesso riesce a giocare con una certa continuità nel passato invece nei precedenti campionati degli anni passati non riusciva a essere presente con la solita costanza tanto attenzione viene avanti viene avanti c'è il pallone sui piedi di Francesco Cuceli non riesce a trovare un compagno Fabio Semperboni ancora Cuceli tenta l'1-2 il pallone che resta lì se ne impossessa Ghislotti Ghislotti va alla conclusione traversa ancora un palo a dire di no alla squadra in maglia nera e poi ancora questo pallone filtrante rinviato proprio da Matteo Morandi una partita una partita che sembra andare sotto sono questi segnali attenzione abbandona il posto in porta Marinoni e poi la palla che resta lì sui piedi di Fabio Ghislotti per il gol del 5-2 siamo al dodicesimo minuto di questo secondo tempo e siamo sul 5-2 non bisogna dare spazio siamo sì il dodicesimo quasi il tredicesimo non bisogna dare spazio però agli avversari di poter realizzare ancora e sperare anche se nel calcetto lo voglio ricordare che tutto cambia anche nel giro di 2-3 minuti ormai abbiamo imparato proprio dalle partite da quando le seguiamo che esterno della rete intanto su questa conclusione di Martinelli abbiamo imparato che le partite terminano proprio dopo il quarantesimo se vogliamo perché anche con 2-3 gols di vantaggio può capitare intanto Manuel Simoncelli non riesce a dare verso Roberto Conti ed è poi ancora Manuel Simoncelli che va a chiudere volevo raccontarvi un po' il cammino mentre vi lascio gustare questa partita siamo sul 5-2 questo proseguo di partita mancano 6 minuti al termine ormai della formazione del Sandrinelli che ha fatto il debutto in casa vincendo contro il Suisio per 3-2 chiedo scusa e poi alla seconda di campionato è andata a vincere contro la Bergamo United per 4-1 quindi alla terza di campionato c'è stata la prima delusione contro quella Tretico Ranger che è stato un pochettino il castiga squadroni se vogliamo perché è andato a vincere proprio sul campo amico della Sandrinelli per una rete a zero alla quarta di campionato Sandrinelli che ha rifilato un 3-0 all'attuale seconda in classifica arredamenti Cortinovis ha ripristinato l'egemonia e ha con 3 vittorie in 4 partite ha fatto capire di poter recitare un ruolo importante e poi invece c'è stato un po' di calo perché alla quinta c'è stato il pareggio con la Frigeni Moto per 1-1 alla sesta un altro pareggio contro i Santi Bevitori 5-5 e poi la vittoria contro il collettivo Confusione la settima di campionato per 4-1 quindi la sconfitta con la Real Conca per 5-2 battuta d'arresto piuttosto sonora alla nona di campionato quelli del Sandrinelli hanno perso in casa con l'atletica mica tanto e questi sono punti che sono importanti insomma perché con una diretta concorrente nelle zone alte della classifica e poi l'1-1 contro il San Leone ma questo ci può stare perché il San Leone vi ripeto è una squadra d'alta classifica nella decima di campionato e adesso se le cose non cambiano siamo a 5 minuti più o meno dal termine e il risultato sembra saldamente nelle mani 5-2 ma ripeto non si può dire assolutamente che la partita sia finita però voglio dire i tre punti di vantaggio relegano la formazione di Valbondione disposta intanto c'è la munizione Roberto Conti per un fallo il signor Perico estrà il tacuino e vedete che va a segnare il nome anzi il numero del numero 8 Roberto Conti poi si sarà il referto e sancirà anche il nome di Roberto Conti che intanto se ne va non è completamente d'accordo cos'è? espulso? eh sì espulso se ne va nello spogliatoio è espulso continuato le proteste Roberto Conti anche lui un carattere non tanto malleabile diciamo così questo fa parte del carattere poi Roberto Conti sappiamo essere un bravissimo ragazzo ha continuato a protestare per questa per l'interpretazione data dal signor Perico e il signor Perico che in questi casi è giudice unico ha estratto ancora una volta il cartellino e l'ha mandato anzitempo negli spogliatoi però qui non è come nel calcio a 11 che quando una squadra resta in 10 qui non può restare in 4 sarebbe troppo il divario però il giocatore che viene espulso deve abbandonare il terreno di gioco non può più rientrare anche se al suo posto entra un altro giocatore e la squadra resta comunque in 5 sul campo di gioco tiro al bersaglio in questo diciassettesimo minuto per la formazione per la formazione ospite che ci prova in tutti i modi mancano 3 minuti e 20 di gioco però non riesce a trovare soluzione ci prova adesso dall'altra parte Simoncelli ricordo che adesso la squadra è in campo con Omar Donati Simoncelli Semperboni e Enrique Donati naturalmente il portiere Andrea Conti avanza avete visto avanza anche il portiere Marinoni ha tentato la conclusione ha tentato e poi ha subito il fallo e c'è il calcio di punizione ancora a favore della formazione in maglia nera mette a posto il pallone Francesco Cuceli sarà lui andare a calciare due uomini Manuel Simoncelli e Enrique Donati in barriera si aggiunge anche Semperboni il passaggio e qui forse tergiversa un po' più del dovuto Raccagni forse poteva autore del primo dei due gol realizzati finora e qui c'è l'arbitro c'è stata una bella conclusione di Marco Martinelli ma l'arbitro non aveva ancora dato il via alla ripresa del gioco forse perché c'è una sostituzione esatto allora sostituzione che era in corso e che naturalmente non doveva essere non era ancora completata allora si riparte c'è stato un fallo proprio da parte di Martinelli nei confronti di Paolo Fornoni delle Dissole che nel frattempo è rientrato Paolo Fornoni che anche questa sera finora ha realizzato quattro dei cinque gol grande parata ancora da parte di Andrea Conti che distinto ci mette le manoni e riesce a deviare in fallo laterale poi sulla conclusione direttamente dall'out dalla rimessa dall'out riesce a trattenere il pallone due minuti due minuti al termine e ormai sente la vittoria in tasca o quasi la formazione in maglia bianca e poi ancora qualche momento di gioco poi vi racconterò della nuova classifica dei risultati di questa undicesima anzi direi visto che siamo al diciannovesimo di farlo proprio ora allora questi sono i risultati dell'undicesima di campionato e la fine del girone di andata del gruppo B girone B del campionato CSI di calcio a 5 naturalmente dei dilettanti del CSI di Bergamo allora le squadre ha vinto la Bergamo United ha vinto 5 a 3 col Real Conca il San Leone ha battuto il Frigeni Moto 5 a 3 la Virtus Suisio ha pareggiato con l'atletica Micatanto 2 a 2 l'atletico Ranger è stato battuto in casa dal collettivo con fusione per 6 a 4 l'arredamento Cortinovis ha vinto contro i Santi Bevitori con il punteggio di 4 a 2 e qui lo possiamo anche anticipare si conclude sul 5 a 2 la partita ormai fra qualche attimo e a questo punto la formazione del Lady il Sole sale in classifica ve la leggo la classifica con 20 punti il San Leone con 19 punti l'arredamento Cortino anzi chiedo scusa con 23 punti il San Leone 22 punti l'arredamento Cortinovis con 19 punti abbiamo due squadre Lady il Sole e l'Atletico Micatanto a quota 18 Frigeni Moto e Collettivo Confusione a quota 15 Sandrinelli e i Santi Bevitori a 13 l'Atletico Ranger a 10 anzi no a 8 c'è la Virtus 92 su Isio e a 6 punti il Real Conca 1987 intanto vi ho lasciato gustare anche questo calcio di punizione senza esito per la formazione del Sandrinelli dunque andiamo vi lascio vedere attenzione va in avanti il portiere e con subisce fallo Marinoni da parte di Paolo Fornoni dicevo la formazione del vi ricordo dell'Ignisole di Val Bondione che è neopromossa perché arriva direttamente dal gruppo C dove l'anno scorso si è piazzata secondo posto è terza in classifica in compagnia a 3-4 punti di distanza dal San Leone che capeggia questa classifica in coabitazione con l'Atletica mica tanto finora compresa questa partita ha realizzato 47 gol ne ha subiti 43 è un po' questa diciamo così difesa che non è forse all'altezza di quella che è la particolarità di questa squadra che invece per quanto riguarda l'attacco è il secondo attacco del campionato di più un solo gol di più l'ha realizzato in Frigini Moto che di gol in 11 partite ne ha fatti 48 però 11-26 11-22 33-44 4 gol in mezzo quasi per partita e questo è il potenziale d'attacco di questa squadra squadra importante che sono sicuro darà ancora tante soddisfazioni al proprio presidente e i sostenitori che per la verità non sono moltissimi e lo dobbiamo dire e questo è un pochettino il rammarico per quanto riguarda appunto questa situazione bene lascia giocare ancora l'arbitro anche se siamo quasi al 21esimo anzi 22esimo qui c'è una ghiotta mamma mia non lascia proprio passare nulla il portiere Andrea Conti bravissimo anche in questa occasione ma siamo ormai agli sgoccioli tentativo su calcio d'angolo e arriva il fischio di chiusura del signor Perico che saluto e gli faccio gli auguri e si chiude qui la partita 5 a 2 a favore delle Dirsole contro i trasporti Sandrinelli sesta vittoria su 11 partite del campionato ci vediamo all'inizio di febbraio amici appassionati di calcio a 5 buon Natale eh sì la vista davvero incantevole in comune di Parzanica proprio sopra Tavernola abbiamo quasi terminato il secondo lotto di villette e appartamenti con stupenda vista sul lago di Iseo e stiamo iniziando i lavori del terzo e quarto lotto rispettivamente di 17 e 30 unità abitative che saranno ultimate prossimamente visto il grande successo fin qui ottenuto grazie alla qualità dei materiali alle capacità della manodopera e non ultimo alla competitività dei prezzi proposti vi invitiamo a curiosare anche attraverso una visita in cantiere per valutare le nostre proposte che di sicuro vi stupiranno per info telefono 347 333 9667